Andiamo avanti con le novità del decreto crescita, conversione, che si vanno ad incastrare in una maniera affascinante con quelle che sono poi invece le novità recentissime di diritto vivente. Contraddittorio è il procedimento tale, questa è l'altra bottina che vi dicevo, poi è liberato il pezzo. Allora, perché guardate, un altro argomento a me caro, facendo l'avvocato che difende i comuni, quindi mi interessa che ogni volta che usciamo con i nostri accertamenti, oltre che nel merito, ce li contestano anche nella forma. E allora iniziano a dirci, è nulla l'avviso di accertamento perché non è stato immesso prima dell'accertamento del contraddittore indoprocedimentale, è nulla l'avviso di accertamento per come me l'hai notificato, è nulla l'avviso di accertamento perché manca di motivazione. Soprattutto sul mancato contraddittore indoprocedimentale e sul vizio di motivazione i contribuenti insistono con due tipologie particolari di accertamenti. Gli accertamenti che disconoscono l'esenzione ex articolo 7, gli accertamenti con i quali li andiamo ad accertare l'abitazione perché non hai requisiti per essere considerata abitazione principale, ne parleremo, anche lì la Cassazione ad agosto ha chiuso il cerchio, finalmente sappiamo come regolarci con questi benedetti coniugi. Sì, abbiamo tutti, si è pronunciata anche sull'Ivo la Cassazione. Quindi proprio abbiamo ora, sappiamo come muovo. Ce lo dice? Certo, e che sto a fare? Che sto venendo a fare? Non vedete che siete proprio più fatici. Ecco, ok, quindi, grazie, quindi, e questo ci criticano la motivazione, anche sui peni merce, eh, io me la ritrovo spesso, non mi è scritto nell'accertamento perché mai il mio non è, sarebbe peni merce, non avrebbe diritto all'esenzione, non mi è scritto nell'accertamento perché la mia abitazione non è da considerarsi principale e quindi non ha diritto all'esenzione. Io ti devo spiegare perché ti disconosco un trattamento di favore. Lo fanno valere come inizio di motivazione, ok? Ma mi fanno anche la contestazione del contraddittorio endoprocedimentale. Ma la cosa grave, sapete qual è? Quelle commissioni tributarie, la regionale di Milano, per esempio, che poi le hanno pubblicizzate molto queste sentenze, eh, alcune sono mie, nel senso mia, difendendo dei comuni, dove su un'esenzione, non sapendo cosa dire nel merito, mi hanno annullato l'avviso, e ora siamo in Cassazione, comunque, ecco, adesso la dottoressa vorrei iniziare in questo momento, però per confermare, ci hanno annullato l'avviso e gli avvisi di accertamento, emessi nei confronti di scuole paritarie, ICI, assolutamente legittimi, ecco, perché non ne sono stati preceduti dal contraddittorio endoprocedimentale. C'è tutta roba proprio che ci sarebbe, vabbè, ecco. Allora, come stanno le cose? Voi sapete bene, nel lontano 2015, c'è stata effettivamente un'ordinanza della Cassazione che ha rimesso alle sezioni unite questa questione. Perché? Perché nel 2014, ad ottobre, le sezioni unite, parlando, pronunciando su un'ipoteca, un'iscrizione d'ipoteca, non proceduta dalla comunicazione preventiva, ve la faccio breve, aveva detto, esiste un principio che è di rango europeo, comunitario, in base al quale, quando un ente impositore emette un atto in positivo, che sia un'ipoteca, un accertamento, anche un atto di mera liquidazione, deve prima invitare il contribuente al contraddittorio, prima di emetterlo, ok? Non è l'accertamento con adesione, emetto l'avviso, il contribuente mi fa istanza di accertamento con adesione, prima di emetterlo. Queste sezioni unite nel 2014 già ci avevano preoccupato, tant'è che a gennaio 2015 la Cassazione rimette alle sezioni unite la questione. È necessario un contraddittorio prima dell'emissione di un qualsiasi accertamento? Pena all'annulità? La Cassazione e la sezioni unite a dicembre 2015 ha messo la parola fine e ha detto sì, è sempre necessario pena all'annulità dell'avviso di accertamento per i tributi armonizzati. Cioè, sono quei tributi che devono sottostare alla legge, al diritto comunitario. Quindi, siccome il diritto comunitario lo prevede, giustamente dice la Cassazione, i tributi soggetti l'IVA l'IVA è un tributo armonizzato, cioè deve sottostare alle prime che ancora che alle legge italiane alle regole comunitarie. Quindi le sezioni unite giustamente hanno detto per i tributi che devono sottostare, siccome per il diritto comunitario questo principio c'è, piaccia o non piaccia, quindi chiaramente un avviso di accertamento IVA l'agenzia delle entrate prima di emetterlo deve necessariamente fare in invitare al contraddittore il contribuente. Poi se il contraddittore può avere esito negativo non importa, emetterà l'avviso ma se non fa questo invito al contraddittore prima l'avviso è di perseguirlo. Per i tributi non armonizzati uguali nostri che ci interessa quei tributi locali assolutamente non devono seguire e rispettare il diritto comunitario proprio perché non sono soggetti. Quindi salvo che non lo preveda specificatamente la legge che disciplina quel tributo non c'è alcun obbligo di un contraddittorio preventivo prima dell'emissione dell'avviso. Poi se il contribuente lo può fare negli accertamenti per l'esenzione X articolo 7 che vi ho detto prima facciamo un passaggio per la verifica dei documenti se gli spesso o non spesso ma è una scelta ma il contribuente ci potrà contestare come io ce lo contestano o c'è anche qualche giudice poco brillante che gli dà ragione ma io secondo voi mi hanno preoccupato che ci tiene che ci hanno dato torto? No assolutamente ma proprio mi dispiace per il comune che ha dovuto sobbaccarsi le spese per andare in cassazione questo sì ma io proprio i gusti che vi prenderò saranno eccezionali anche perché la cassazione si incazia parecchio quando si porta si solleva una questione sulla quale ha già deciso in maniera definitiva si incazia proprio di brutto e l'incazziamento lo vediamo nelle condanne alle spese 10, 20, 30 mila euro di condanne alle spese ecco quindi io non mi sono preoccupata mi dispiace solo che i comuni sono costretti ovviamente a sopportare delle spese per andare avanti nei contenzioni quindi è detto le sezioni unite e guardate sezioni unite seguite queste sono soltanto proprio 2-3 delle pronunce successive se la legge per i tributi non armonizzati per i tributi locali solo se lo prevede specificatamente la legge altrimenti non esiste nessuno obbligo di contatto e qui quindi siamo tranquilli cosa fa il decreto crescita in sede e in conversione ha introdotto questa disposizione l'articolo 4-8 4-8 infatti obbligo invito al contraddittorio che già ci piace poco questa intitolazione cosa ha fatto seguitemi cosa ha fatto questo articolo 4-8 e andate che poi l'hanno guarda quando si dice proprio quella cattiveria perché sì perché lo hanno infiato in maniera che uno magari non se ne accorge ma c'è l'avessero infiato nella norma d'imposta l'articolo 13 sul limo uno lo vede e dice ah cavolo l'hanno messo siccome le sezioni unite hanno detto che se c'è una legge se la legge d'imposta lo prevede l'obbligo c'è io lo vedo chiaramente purtroppo c'è loro non l'hanno messo nell'articolo 13 sul limo nella 147 sulla lo hanno infilato nel decreto legislativo 218 del 97 qual è in questo decreto? l'accertamento con adesione di Scepina voi sapete l'accertamento con adesione articolo 6 l'accertamento con adesione con istanza del contribuente dopo la notifica dell'accertamento sapete bene che il contribuente ovviamente relativamente alla materia comportabile quindi sostanzialmente per le aree inificabili mi può presentare in stanza di accertamento con adesione lo conosciamo lo hanno infilato lì lo hanno infilato inserendo l'articolo 5 terra perché il decreto legislativo 218 ha l'articolo 5 che stabilisce che d'ufficio l'ente impositore quindi senza prima di mettere l'avviso di accertamento può ma può la facoltà d'ufficio invitare il contribuente a definire la sua posizione per esempio per l'atari indicami le superfici andiamo un po' capire perché io devo accertarti ma dici quali sono le superfici eccetera quindi è una facoltà che c'è sempre stata noi comuni l'abbiamo usata poco l'agenzia delle entrate l'ha usata molto noi abbiamo utilizzato più l'articolo 6 non il 218 cioè l'istanza di accertamento con adesione che ci fa il contribuente vero? sì questo è stato inserito nel 5 terra e dice l'ufficio fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia il processo verbale per i nostri tributi non c'è prima di emettere un avviso di accertamento notifica l'invito a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento in caso di mancata adesione io ti io ti invito contribuente non ci mettiamo d'accordo l'avviso di accertamento che metterò deve avere la motivazione delle ragioni per le quali non c'è stato l'accordo pena la nullità di quell'avviso il mancato avvio del contraddittorio comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento ma allora a seguito di impugnazione il contribuente di mostro in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere quindi sempre perché basta che io conseguentti impugno e dico io avrei potuto produrre questo documento anche se non rilevante non determinante è sufficiente che provi che aveva un altro una piccola mezzo di carta da produrmi e io voglio dare l'opportunità di produrmerlo ok allora finisco e poi subito la parola questa disposizione questo articolo 5 terra espressamente non a caso la sua entrata in vigore è stata costicipata agli avvisi di accertamento emessi dall'1 luglio 2020 detto questo e poi vi do la parola cosa dobbiamo fare noi l'anno prossimo nel nostro regolamento se io nel mio regolamento come spesso accade ho inserito voi sapete che l'articolo 9 comma 7 del nostro comma 5 anzi scusate del nostro del decreto 23 2011 sul limbo cosa dice i comuni possono inserire l'istituto dell'accertamento con adesione secondo i parametri di cui ha 218 vero? se il comune nel regolamento richiama il decreto legislativo 218 punto necessariamente necessariamente e la relazione illustrativa al decreto ovviamente lo dice ma non è che c'era bisogno necessariamente noi siamo obbligati anche a questo articolo 5 ter quindi saremo costretti al contraddittorio preventivo prima dell'emissione dell'avviso diversamente il contribuente che già lo fa adesso ma dopo ora lo farà con una legge che gli dà ragione quindi non avremo più scampo ce lo contesta per l'unità per mancato invito al contraddittore se invece io nel mio regolamento specifico propongo sì l'accertamento con adesione ma indico gli articoli oppure specifico ad esclusione dell'articolo 5 io mi porto l'accertamento con adesione che è un istituto che quasi tutti i comuni hanno ed è giusto che ci sia ma questa norma non si applica perché la legge mi dice che il comune può applicarlo e può anche recepire solo in parte può regolamentare l'accertamento con adesione se lo regolamenta in maniera di forme al 218 ok ma se come io leggo in molti regolamenti c'è il richiamo al decreto legislativo 218 non ci troveremo l'obbligo dell'invito al contraddittorio non ci sono storie non avremo modo di arginare i contribuenti che ci cepiranno la nullità degli affissi di accertamento se non sono stata chiara ditemelo come sono i vostri regolamenti c'è un recepimento del decreto legislativo o avete regolamentato l'accertamento con adesione punto allora immediatamente l'anno prossimo dobbiamo rivederlo non a caso l'entrata in vigore è stata posticipata scusate agli accertamenti notificati dal 1 luglio 2020 quindi non è ancora in vigore non ce lo possono contestare per tutti gli accertamenti che noi abbiamo e che notificheremo fino al 1 luglio 2020 ok quindi abbiamo tutto il tempo è stato fatto apposta questa applicazione successiva per rivedere i nostri regolamenti controlliamo e vediamo se noi abbiamo scritto si recepisce l'accertamento con adesione ai sensi del 218 poi abbiamo specificato abbiamo aggiunto delle cose diverse anche quello non va bene dobbiamo proprio espungere questo articolo 5 ter ok lo dobbiamo proprio specificare che l'articolo 5 ter non si applica perché non basta che io come dire regolamentato in maniera mia l'accertamento con adesione se però ho richiamato anche il 218 significa che si applica tutto il 218 in più poi ho voluto prevedere delle varianti io devo proprio specificare che dell'articolo o dico l'accertamento con adesione è questo lo regolamento senza citare se io richiamo il 218 necessariamente dovete ve lo dico un avvocato se non ce lo contesta non abbiamo spazi se io fossi l'avvocato del contribuente immediatamente contesterei la nullità dell'avviso e voglio vedere quale giudice di fronte ad una legge entrata in vigore potrebbe non riconoscervelo già le difficoltà le abbiamo adesso che non si applica immaginiamoci quando c'è la legge specifichiamo specifichiamo non si applica l'articolo 5 ter del decreto legislativo non trova applicazione l'articolo 5 ter del decreto legislativo 218 nel 97 sapete qual è la cosa grave poi vi do la parola che io sto leggendo ma tanti articoli eh tanti articoli in statico dove si dice il contraddittore interprocedimentale non si applica ai tributi locali non è così allora se tu mi vuoi intendere non si applica cioè non è stato inserito la legge d'imposta che regola i tributi locali sì ma non è vero che non si applica perché se io come? sì sì assolutamente sì però non è come dire no? ecco è una specie come dire è uno spazio ampio per i nostri tributi quindi dire non si applica è assolutamente sbagliato è assolutamente sbagliato se noi recepiamo 218 lo dobbiamo applicare il conseguente avrà tutto il diritto di recepire la responsabilità dei nostri avvisi sugli accertamenti sulle aree invece il problema lo avremo se non andiamo a verificare i nostri regolamenti e a correggere questo si parla del contraddittorio endoprocedimentale cioè prima dell'emissione dell'avviso quello dell'accertamento con l'adesone articolo 6 è quello che il contribuente ha facoltà di fare dopo che riceve la notifica dell'avviso tant'è che si sospendono i termini per l'impugnazione non è questo ok? è chiaro? ecco e va notificato notificato certo questo è quello prima allora siccome io so che la maggior parte dei regolamenti comunali come giustamente dice Gaglia hanno la dicitura ex decreto legislativo 218 ma perché anche la norma di imposta dell'articolo 9 del libro che dice i comuni possono ricevere l'accertamento con adesione ai sensi del decreto legislativo 218 è chiaro che se non andiamo a fare questo correttivo non ce lo ritroviamo ecco perché dicevo prima la furbata la norma è inserita in maniera nascosta e quello che sto leggendo è che non si applica non si applica poi c'è invece chi correttamente tra questi il professor Lovecchio perché quando ho letto questo articolo ho detto ma non ci stanno capire come si fa a scrivere questa cosa poi per fortuna ho letto il professor Lovecchio che ha scritto un bell'articolo in cui giustamente dice e non bisogna di un libro ha scritto giustamente attenti comuni perché non è che non si applica in automatico e c'è il rischio che ve lo ritrovate quindi fate attenzione ai regolamenti ma insomma voglio dire basta leggerla alla norma quindi mi raccomando andiamo a vedere a sfocciare l'anno prossimo e delineiamo questo 5 e 3 che non ci piace per niente però facciamolo ok? E non è illegittimo espungerlo? No perché l'articolo 9 comma 5 del 23 2011 dice i comuni possono applicarlo e possono disciplinare le regole del quindi ci dà spazio per decidere prima di applicarlo o meno e se decidiamo di sì di regolamentarlo come vogliamo togliendo qualcosa aggiungendo altre cose in più quindi non è assolutamente illegittimo però facciamolo perché se no ci troviamo articolo 9 comma 5 del decreto 23 2011 che è quello che ha istituito qui che in questo comma ripete quello che era già contenuto nell'articolo 10 del 504 per leggi cioè i comuni possono se vogliono utilizzare questo istituto ad agosto ho letto un paio di articoli su Italia Oggi non so chi di voi li ha letti ma hanno allarmato molti infatti ho ricevuto un sacco di mail da comuni dove una persona ha scritto che c'è l'obbligo per l'ufficio tributi di emettere tutti gli atti positivi tributari e digitali dice no ma c'è l'obbligo le modifiche al CAD apportate dal decreto 218 del 2017 entrato in vigore a gennaio 2018 hanno imposto agli uffici tributi non solo di notificare non stiamo parlando della notifica di redigere gli atti digitali non più cartacei perché l'articolo 40 del CAD così come è stato modificato dice questo ora non scendono i particolari perché non ho tempo voi troverò le slide ce le avete è una sciocchezza ma proprio grossa ma lei che ne sa prima perché le norme le leggo secondo perché insieme al professor Mancarella alcuni di voi lo sanno perché ne ho parlato anche in altri corsi io abbiamo scritto la riforma il decreto 217 che è entrato in vigore il 1 gennaio 2018 l'abbiamo scritto diciamo io il professor Mancarella lui perché sta ai tavoli che hanno della prima redazione del CAD e delle varie riforme e io siccome gli ho chiesto per gli aspetti tributari se potevo dare intervenire perché voi sai questi professori di informatica giuridica sono bravissimi sull'informatica giuridica ma tributi proprio niente quindi ho detto prima che vadano a farci qualche guaio andiamo a dire che questa riforma tenga conto della specialità della materia tributale quindi non fatevi alcun problema noi possiamo non dobbiamo possiamo e la nostra scelta di redigere di formare gli atti digitali piuttosto che continuare con il cartaceo l'analogico molti comuni li fanno digitali cioè redigono direttamente gli atti digitali è chiaro che chi li redigia direttamente digitali li notifica necessariamente via PEC ma è una facoltà quella di redigerli digitali o analogici carta così come una facoltà quella di notificarli al mezzo PEC ok quindi la notifica PEC di un atto che è un atto digitale scusi è un atto digitale noi di solito facciamo firmati digitalmente firmati digitalmente però le chiedo nasce digitale o è una scansione quindi è una coca informatica di un atto analogico è una creazione PDF firmato digitale quindi è una coca informatica dell'originale analogico va benissimo c'è la firma digitale perché serve la firma digitale ad attestare che quella copia informatica è conforme all'originale quindi abbiamo benissimo rispettato le regole del CAD lo notifichiamo usiamo la PEC naturalmente tratta dall'INIPEC perché l'articolo 60 prevede specificatamente che la PEC deve essere quella dell'INIPEC notifica perfetta naturalmente è rivolta ad una società di vita professionista perché voi sapete bene che come no più che un permesso benissimo devono loro rilasciarci sì se ce l'hanno rilasciato ma questo perché lo prevede il CAD e l'abbiamo sottosto in vigore da gennaio 2018 per le persone fisiche che non sono obbligate ad avere la PEC se ci rilasciano un'autorizzazione non potranno poi domani lagnarsi cioè ma la PEC io non sono obbligato quindi la notifica è quella no mi hai tu autorizzato ma non intanto perché mi hai autorizzato perché c'è la legge che dice che se il contribuente ci autorizza quella notifica è valida e non potrà lagnarsi assolutamente sì certo la forma è libera perché sia chiaro che ci ha autorizzato e per quali atti ci ha autorizzato cioè IMU IMU TASI TARI tutti i tributi solo 1 2 3 quello ci vuole esplicitare va bene scusate però la collega non nasce in PDF non è una scansione però è necessariamente una cosa perché certo che ma perché altrimenti non potrebbe essere un semplice PDF ok il PDF è sempre non è atto digitale l'atto digitale è il PDFA o il P7M quelli sono i formati digitali sono quelli che io posso notificare cioè il P7M non il P7M ah PDFA sì PDFA non il semplice PDF PDFA e P7M sono tutte e due firme elettroniche certificate che hanno la medesima valenza questo l'hanno chiarito anche le sezioni unite perché i primi giudici tributari chiamati a decidere benissimo dicevano non è P7M quindi questo non è atto digitale non è firma digitale comprendiamo anche che l'ignoranza della materia di informatica giuridica ce l'abbiamo tutti no? ecco poi gli informatici giuridici si sono fatti giuridici quando hanno letto queste pronunce perché hanno detto ma quando mai le firme digitali sono due P7M CADES PADES P7M è l'estensione ok sono CADES e PADES P7M estensione P7M oppure Pdfa ecco poi le sezioni unite lo hanno anche detto quindi ormai qui non la siamo ma queste sono le due firme digitali condividi 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 per la sua poter per la sua pagina